E per tutti ragazzi benvenuti, io sono Diego e oggi siamo qua per vedere il tutorial sul Rocket League Me lo avete chiesto in tanti, oggi mi farò vedere 5 consigli per cui migliorare, cioè non 5, non 5 specchi Sto a me guardare un attimo il copione, niente non sono 5 ragazzi sono dei consigli, non fate a caso quello che ho detto Sono dei consigli praticamente e oggi vi ne andrò a parlare un po' di qualcuno Allora la prima è la scelta della macchina, le macchine sono tutte uguali quindi prendete quella che vi piace di più Io scelgo questa perché è quella che mi piace di più finora e basta Poi ragazzi ci sono i settaggi camera e controlla, andate qui, vabbè opzioni, poi andate su telecamera Prima cosa togliete l'oscillazione, toglietela, toglietela, toglietela perché fa veramente schifo Poi ragazzi come seconda cosa aumentate il campo visivo, aumentate, 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 aumentate Ovviamente non a 110 ma a 105 e ovviamente io lo tengo a 105 ma lo potete tenere come mi pare Ovvio la telecamera raga si tiene come mi pare, infatti non dovete prendere le impostazioni mie Per forza dovete provare delle impostazioni che voi stanno bene, a me queste stanno bene quindi mi trovo bene così Poi raga io ho un'altra cosa, i comandi, allora comandi, 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 no che comandi? Che sto di, comandi dovete andare su, si su comandi, dovete andare a visualizzare modifica tasti E io ho modificato solo L1, faccio la capovolta in aria E sul quadrato mi sono derrapata, prima io ho il quadrato sulla capovolta in aria e basta Capovolta in aria cosa sarebbe? Capovolta in aria sarebbe questo Questo qua con L1 Così E questo qua raga lo vedete a certe volte, questi qua si fanno con L1 Perché prima raga il quadrato era molto più difficile perché quadrato e cerchio sono tutti e due i tasti attaccati Non questi attaccati, quindi è difficile Quindi me lo sono spostato, ovviamente voi se volete proprio spostarlo fate come il cavolo vi pare Non mi interessa, non me ne frega niente E andiamo avanti Raga mi raccomando migliorate la difesa Mi raccomando, migliorate raga, migliorate la difesa Migliorate Così tutti fanno schifo di difesa Tutti, almeno tu puoi essere il vero portiere della nostra squadra Cioè nella nostra non proprio, quindi non la prende sul serio Quindi raga migliorate tutto questo aspetto di Rocket League Migliorate, migliorate Non guardare questo tiro Non lo guardare, non lo guardare Allora raga Come avete chiesto in tanti Ok raga, volare Come me lo avete chiesto in tantissimi ve lo porto Allora ci sono tre tipi di Salti di, cioè come tre tipi di volare Allora, salto e boost Che è questo Che è quello banale che sanno fare tutti Quindi non me ne frega niente Il secondo, ops Il secondo è doppio salto e boost Questo qua è utile molto quando state sotto palla E dovete salire molto più velocemente Raga, il terzo metodo è Allora, dovete fare Salto, boost Pevetta in basso Di nuovo salto E atterrare Non avete capito un cazzo Tranquilli Nemmeno io Questi raga sono le cose principali Su questo video Dobbiamo visto le cose principali su Rocket League Quindi il volo Il controllo delle impostazioni I settaggi La macchina Accettate la macchina E basta Io non mi ricordo più Il dribbling No, il dribbling No, quello è più avanzato Quindi se questo video arriverà Non so quanti like O diventerà Non lo so Dimenterà famoso Porto un altro tutorial E ditemi su cosa lo vorreste fare Tipo che ne so Su dribbling Volare ancora di più Volare avanzato Come fare Che ne so Boh Il Non lo so nemmeno io Quindi raga Noi ci vediamo in un prossimo video Mi raccomando Mi raccomando Mi raccomando Ma proprio mi raccomando Mi raccomando Lasciate un bel mi piace Iscrivetevi al canale Mi raccomando Lasciate un bel mi piace L'ho già detto già due volte Ma va bene Allo stesso Noi facciamo un bel Un bel volo Che non lo manco lo so fare Perché sono una merda Quindi raga Noi ci vediamo in un prossimo video Bella